ciao a tutti allora la ricetta di oggi è nata perché in giardino con questo tempo che non si sa se essere autunno primavera mi sono nati dei pioppini e al supermercato nel reparto suggelati ho trovato invece quelle polpettine che mi piacciono tantissimo a base di carote e verdure varie e così è nata la ricetta di oggi non ho fatto nient'altro che prendere i pioppini li ho privati del gambo che in questo caso userò per un'altra preparazione li ho passati in dell'amido di patate e la stessa cosa ho fatto poi con i miei medaglioncini di carote li ho già presi così come erano sul gelato non sono stata nemmeno a scongelarli anche quelli li ho passati in un pochino di amido di patate e poi li ho passati entrambi unendoli in dell'uovo sbattuto basta un uovo per fare questi 6 deliziosi sformatini non so nemmeno io come chiamarli con funghi fritti con un loro ripieno di verdure passandoli poi in padella a rosolare fino a giusta cottura qui vedete le varie fasi di cottura in questo vi lascio questa super veloce ricetta oggi sono stata pigra anch'io non sono stata lì a cucinare grandi cose ma erano buoni ve l'assicuro non è rimasto nemmeno uno questa era quindi la ricetta di oggi ricordatevi di leggere sempre il boxino delle informazioni nella parte sottostante del video cliccate se vi piace cliccate se volete inoltrare e a tutti buona domenica ciao